John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mercato che farei della Juventus. Vi ricordo, prima di iniziare, che se qua sotto lasciate 5.000 mi piace, già oggi esce un altro mercato che farei, altrimenti ci vediamo domani con un altro mercato che farei, soffrendo forse portiamo quello della Lazio, adesso cerchiamo di capire. Detto questo, prima di iniziare, come sempre, invito ad iscrivervi al canale, il 40,6% di chi mi segue non è iscritto al canale, a voi non costa nulla. Per me è molto importante, iscrivetevi al canale, vi ricordo che trovate sulla playlist del mercato che farei e tutti gli altri mercati che farei, sono già usciti Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter e questo è il settimo che esce, ovvero quello con la Juventus. E quindi andiamo a buttarci, vi ricordo che è una serie fantasiosa, quindi prima di mettervi a dire tipo, eh sì però secondo me quello non può succedere, quell'altro è impossibile, io vi dico il mio, vi cerco di spiegarvela, poi ovviamente voi mi dite la vostra e mi dite la Juventus che fareste per il prossimo anno per provare a vincere lo scudetto e per tornare competitivi in UEFA Champions League. Partendo ovviamente dai portieri, come vedete da qua sotto ho deciso di mettere 30 milioni di euro di budget in positivo perché credo che la Juventus oltre ai soldi che spenderà per riscattare Chiesa, 30 milioni in più li spenderà perché non ha grossi problemi, cioè nel senso alla fine ultimamente sembrava sempre la Juventus non avesse una lira e invece ha sempre speso bei soldi, vi faccio pensare a Vlaovic ad esempio a gennaio e quindi io credo che altri 30 almeno di partenza li andrà a spendere. In porte e bianconeri hanno Scesni, Perin e Pinzoglio. Scesni è il primo, Perin è il secondo, Pinzoglio è il terzo. Vi posso dire, a differenza di tante altre squadre dove Salome dappertutto, Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, ho sempre cambiato il portiere di Dolare o ho sempre fatto girare qualche portiere di fascia importante e qui per la prima volta secondo me non bisogna fare nulla. Vojtek Scesni è il perfetto primo portiere di questa Juventus e Perin è il miglior secondo portiere, non il secondo miglior portiere ma il miglior secondo portiere secondo me della Serie A. Quindi per me tenere questi sarebbe perfetto. Inoltre da quello che ho capito Pinzoglio dà una grande mano nello spogliatoio a livello umorale e quindi questo è quello che farei. Cioè niente, rimarrei con 30 milioni di euro con Scesni, Perin e Pinzoglio. Passiamo adesso ai difensori centrali. In difesa la Juventus ha De Ligt, Bonucci, Chiellini, Rugani, Gatti e Dragusin. Allora, Chiellini si ritira, cioè in realtà non è che si ritirava già in MLS però più o meno è come se si ritirasse. De Ligt io lo terrei con le unghie e con i denti. Bonucci per me deve rimanere ma passare il testimone o comunque alternarsi. Insomma diciamo che la Juventus secondo me avrebbe bisogno di un difensore coi controcazzi. Per quanto riguarda Dragusin lo vado a riprestare. Gatti invece me lo tengo come quarto e Rugani me lo tengo come quinto. Questo è quello che farei io. Detto questo però serve il calciatore che andrebbe numericamente e qualitativamente a sostituire Chiellini. Senza dimenticarci però che la Juventus percepirà 30 milioni di euro dalla cessione di De Miral all'Atalanta che pare destinata a riscattare il calciatore per poi cederlo per 50 milioni. Non si sa dove, probabilmente in Premier League. E allora il calciatore sul quale andrei a grande sorpresa è Caliducco Libali. Allora c'è un discorso da fare. Il discorso da fare è che il Napoli lo vende per 40 milioni. È vero, è vero che ha detto che alla Juve glielo dà a 70 perché alla Juventus però a 40 milioni il Napoli lo vende. Io lo metto a 30 più bonus non perché voglio risparmiare soldi ma perché anche però semplicemente perché il calciatore ragazzi scade l'anno prossimo. Cioè tra 12 mesi il calciatore va via a parametro zero. E se non si dovesse riuscire a trovare l'accordo tra Coulibaly e il Napoli, poi magari quando vedete questo video passano due ore da quando lo registro a quando lo carico e l'accordo si è trovato non possiamo saperlo. Però qualora non dovesse arrivare l'accordo secondo me Coulibaly potrebbe andare via a cifre contenute che sarebbero magari 30 milioni più 10 milioni di eventuali bonus con che ne so 3 milioni se la Juventus vince la Serie A, 3 milioni se la Juventus va in Champions League, 3 milioni 4 milioni se la Juventus vince la Coppa Italia. Cioè vince un trofeo quindi nel senso 10 milioni di bonus non facilmente raggiungibili però che si possono raggiungere visto che sono legati tutti ad obiettivi stagionali della Juventus. Quindi la Juventus avrebbe assolutamente voglia e bisogno di raggiungere. Detto questo, cari tu Coulibaly, la Juventus farebbe malissimo a tutti i napoletani. Lo so per certo, ovviamente sì ci sta. Però devo dire comunque che io devo pensare al mercato e credo che la difesa composta da De Ligt e Coulibaly farebbe un grandioso, grandissimo passo in avanti e permetterebbe alla Juventus di prendere uno dei migliori centrali al mondo. Che sia in lacco l'età perché qualcuno dirà, beh sì però tu volevi ringiovalire la rosa e prendi Coulibaly. No, non è che volevo ringiovalire la rosa, io volevo rinforzare la rosa. Coulibaly ha 31 anni, Bonucci ce n'ha 35, Gatti sarà il futuro della Juventus però per il momento bisogna pensare al presente. E quindi con De Ligt, Bonucci, Coulibaly, Rugani, Gatti che comunque farebbe il quinto e per me Gatti è un buon quinto, anzi farebbe il quarto, Rugani farebbe il quinto. Comunque 5 di servono considerando appunto che giochi campionato Coppa Italia del Champions League. E il bilancio rattivo di 30 milioni di euro ce ne andiamo sulle fasce. Per quanto riguarda i terzini la Juventus di presenza ha Quadrado, Danilo, Luca Pellegrini, Alexandro, De Sciglio e Frabotta. Quadrado per me deve assolutamente rimanere alla Juventus, cioè per me da romanista no, dovrebbe assolutamente venire alla Roma però rimarrà alla Juventus. Tra l'altro ha fatto anche un tweet nel quale avrebbe smentito le voci che lo volevano lontano da un accordo con la Juve. Lui rimarrà alla Juventus e la Juventus ha bisogno di Quadrado. Mentre Danilo di ruolo è il panchinaro titolare a destra e quindi è perfetto. Tra l'altro Danilo può giocare terzino destro, difensore centrale, volendo anche terzino sinistro, volendo anche in mediana. Quindi è un giocatore che per me è super prezioso. Per quanto riguarda invece il discorso Luca Pellegrini io cercarei di tenerlo e alternarlo con quello che prenderò a fare il titolare. Spero però che Luca Pellegrini voglia rimanere perché da quello che si evince Luca Pellegrini avrebbe chiesto di partire. Certo se Luca Pellegrini partisse io alzerei le mani, cioè volesse partire. Però se riesco a convincerlo promettendogli anche una buona parte di titolarità, secondo me sarebbe buono tenerlo perché questo è un calciatore di futuro certo. Per quanto invece riguarda De Scirio io come quinto, quindi o a destra o a sinistra, me lo tengo. Fra botta lui vado a prestare magari adesso in un club di Serie A, magari un Monza, magari un Lecce, magari che ne so una Cremonese, una squadra neopromossa che però gli darebbe un minutaggio. Mentre Alexandro se riesco, che volesse Dio, dirà qualche Juventino, lo vado a vendere. Veramente ragazzi per 5 milioni di euro. Lo so che la cifra è irrisoria, però siamo arrivati a un punto in cui Alexandro occupa solamente uno slot e la Juventus è stata chiara. Se non parte nessuno non arriva nessuno. Giocatore che arriva è perché giocatore parte, non è che c'è un sovraffollamento di calciatori in un ruolo. Cioè non vogliamo avere 250 giocatori, ne vogliamo tot in tot ruoli. E quindi Alexandro deve partire, se arrivano 5 milioni io lo impacchetto, lo prendo e lo vado a vendere. Il calciatore che vado a prendere per questa Juventus a 15 milioni di euro, cifra che vale il giocatore, è Udoge dell'Udinese. Allora c'è un discorso da fare. L'Udinese ha detto chiaramente che se potesse scegliere Udoge non lo andrebbe a vendere. Ok? Venderebbe Molina ma non Udoge perché secondo me sa e pensa, anzi pensa e sa, che l'anno prossimo Udoge lo vendi a tanto di più. Dall'altra parte però vi dico che se Molina non dovesse trovare una sistemazione, perché l'Udinese chiede 30, e soprattutto se la Juventus offrisse 15 milioni di euro a Udoge, che è una cifra importante per un giovane di 19 anni che ha debuttato un anno fa, io penso che volendo si potrebbe anche fa, io penso che volendo l'Udinese potrebbe anche accettare. In questo modo la Juventus a sinistra avrebbe una fascia completamente giovane, perché avrebbe Udoge e Luca Pellegrini, però potrebbe farli alternare e potrebbe ringiovanire sotto questo punto di vista la rosa. Anche perché a destra c'ha il quadrato che c'ha 40 miliardi di anni, no tipo 32-33. E hai Danilo che comunque può giocare un po' dappertutto. Per quanto invece riguarda De Sciglio me lo terrei come quinto che può giocare all'occasione sia a destra che a sinistra. Il problema della Juventus con De Sciglio non è che ci sia De Sciglio, il problema è che De Sciglio giochi super titolare, perché l'ultimo anno ha giocato tanto. Allora De Sciglio deve diventare il quinto e quindi la Juventus deve togliere i rami secchi. E quindi io come tersini avrei quadrato Udoge e Danilo, Luca Pellegrini, De Sciglio e il bilancio inattivo di 20 milioni di euro. Detto questo passiamo ai centrocampisti. In mezzo al campo la Juventus, chi più ne ha più ne metta, c'ha una marea di calciatori. E sta cosa va risolta anche perché forse è qui, leverei anche il forse, che la Juventus ha bisogno di maggiore attenzione. Io qua forse vado un po' a fantasticare, però qualcosa dovevo creare. Locatelli lo tengo, lo ha voluto Allegri, si tiene. Zaccaria si tiene, lo ha voluto Allegri, stessa storia. McKennie penso che per la panchina, allora, è molto lontano da Vidal, perché la gente quando arriva da Allegri lo paragonava a Vidal. È molto lontano da Vidal. Però per la panchina credo che sia un buon rincalzo, un buon calciatore, una buona pedina che entra a partita in corso. E quindi, tutto sommato, io questa è una mossa che farei. Cioè, io penso che tutto sommato si potrebbe tranquillamente tenere McKennie. Arthur, invece, se dovesse arrivare la giusta offerta, ha anche di 20 milioni di euro, quindi una cifra non altissima. Poi se sto andando basso, me lo dite voi, però ragazzi, Arthur, ma in questo momento quanto può valere? È vero che è stato pagato 70, ma anche Pjanic è stato pagato 50. Erano plus valenze altissime, che adesso non trovano riscontro. Il Barcellona Pjanic ce lo regala, quindi, avete capito bene, insomma, la situazione è quella che è. Quindi io, se mi arrivano 20 milioni, Arthur lo vendo. Ramsey lo vendo anche a parametro zero, non voglio monetizzare da Ramsey. Mentre se mi arrivano soldi, riesco, vendo anche Rabiot a 15 milioni di euro circa. Ho scritto 15, ho scritto 15, 15 milioni di euro circa. Perché allora, tutto sommato, inizialmente Rabiot io me lo sarei tenuto per la panchina. È freggiato quindi con Locatelli e Zagaria Titolari e un altro calciatore, che adesso andrò a dire. Però poi ho pensato che potesse entrare addirittura un altro calciatore, quindi scalare nelle gerarchie e allora vendere anche Rabiot. Alla fine, secondo me, l'unico vero problema di Rabiot è lo stipendio, che percepisce 7 milioni e mezzo di euro. Lui ha detto che vuole rimanere e tu devi trovare qualcuno che ti dia quella cifra lì. Che al momento pare essere, cioè che gli dia quella cifra di 7 milioni e mezzo. Al momento pare essere una cosa impensabile. Però credo che il calciatore valga anche 18-20 milioni di euro, considerando che può giocare mezzalla, può giocare interno di centrocampo, può giocare esterno di centrocampo, anche ala bassa. Non tersino, ma ala bassa, quindi esterno appunto a centrocampo, largo e stretto. Quindi, insomma, sarebbe un giocatore che avrebbe delle offerte anche dalla Premier. Per me 15 milioni ce li puoi fare, anche perché in Premier dare i 7 milioni e mezzo non sono nemmeno così tanti. Poi penso in realtà che Rabiot potrebbe decidere di andare via per meno di 7 milioni e mezzo l'anno se gli facessero un contratto più lungo. Cioè, penso che se lo United Boost gli fa 5 e mezzo l'anno per 5 anni, lui prende e se ne va. Rovella me lo tengo. Io penso che sia arrivato il momento di dare credito a Rovella, di responsabilizzarlo. E mi tengo anche Miretti. Miretti perché farebbe l'ultimo. Non mi tengo invece Mandracore e Fagioli. Ma il discorso è molto semplice. Qualcuno dirà, sì che però Fagioli è più pronto di Miretti. Sì, però Fagioli 1 potrebbe continuare quello che ha iniziato con la Cremonese, ma facendolo in Serie A. E sarebbe un plus. Così come Mandragora, che poi potrebbe essere riprestato, Fagioli e Mandragora sono due giocatori che non gli puoi fare fare i settimi di centrocampo. Però a grande sorpresa io Mandragora a 10 milioni lo vendo. Era stata messa un diritto di riscatto che sono di par 18-17 milioni che non verrà pagato. Però a 10 milioni, se metteva l'offerta giusta lo do via. La Juventus a centrocampo è messa bene. Sarà messa bene ancora di più dopo questo mercato. E quindi personalmente io cercare di monetizzare il più possibile per cercare di potermi permettere dei calciatori forti subito, immediatamente. Perché la Juventus ha bisogno di una svolta. E il primo giocatore che prenderei è quello che ha sulla bocca di tutti. Non è stato ancora ufficializzato ma poco ci manca. Ovvero Paul Pogba. Che arriverà alla Juventus a parametro zero. Qualcuno mi dirà, eh però tu così facendo non conti gli ingaggi. È vero. Però fate il calcolo voi. La Juve ragazzi perde di bala. E quindi la Juve perderà Morata. La Juve perderà Kennel. La Juve ne perderà tanti. E quindi non vedo sto grande problema a dar soldi di stipendio a Paul Pogba. Che per me non è affari difficili. Anzi lo vedo molto probabile. La seconda cosa che farei, e questa invece è davvero difficile, è prendere anche Sergei Milinkovic-Savic per 70 milioni di euro. So che sono tanti. So che l'Otito parene che da 80-100 ma per me se l'Otito gli arrivano 70 milioni cash. Ora in questo momento firmerebbe attualmente se Milinkovic volesse. E io credo che sia arrivato il momento di rinforzare questa squadra. Visto che i soldi più o meno, come vedete qui sotto dal bilancio, ce li abbiamo. Io sinceramente questa è una mossa che farei. Credo che Milinkovic sia ideale. Poi tra le altre cose Milinkovic percepisce solamente 4 milioni l'anno di stipendio alla Lazio. Certo qui prenderebbe 5,5-6. Cioè andrebbe ad arricchire quella cifra. Però comunque non andrebbe a prendere 10 milioni come potrebbe essere appunto un centrocampista top player. Che come Milinkovic però che vai a prenderlo magari dalla Premier League. E per il centrocampo della Juventus sarebbe qualcosa di assurdo avere Pogba, Milinkovic-Savic, Zaccaria, Locatelli, McKennie, Rovella, Miretti. E il bilancio in passivo solamente di 5 milioni di euro. Con addirittura Pogba, Milinkovic, Zaccaria, Locatelli che li avrebbe voluti Allegri. Miretti che l'ha lanciato Allegri. E poi Rovella e McKennie con Allegri che non si è mai limitato a fare dei grandi complimenti a McKennie. Quindi nel senso sarebbe un centrocampo che finalmente rispecchierebbe le richieste del mister della Juventus. Per quanto riguarda le ali invece partiamo appunto da Chiesa, Bernardeschi, Ake, Jattaren e Piazza. Avendo tolto in precedenza perché per me la Juventus si spenderà oltre i 40-30 quindi nel senso avendo già tolti i soldi del riscatto di Federico Chiesa. Davanti bisogna muoversi in un certo senso. Bernardeschi la Juventus lo perde a zero. Io non l'avrei perso a zero però sono scelte che si sono fatte e quindi io alzo le mani. Ake me lo tengo come panchinaro. Jattaren lo vado a vendere a 5 milioni di euro. Sta facendo bene nelle giovanili del PSV se non sbaglio. Comunque in Olanda e ragazzi se arriva l'offerta giusta per me Jattaren va via. Così come Piazza se mi danno 4 milioni di euro, l'ho pagato 20 ma non me ne frega niente, lo prendo e lo cestino. Perché c'è bisogno di rinfrescare. Poi Jattaren ha avuto dei problemi psicologici diciamo, dei problemi legati appunto alla psiche nell'ultimo periodo a Torino. E quindi ci sta che torni magari a giocare in Olanda lì dove si sente più tranquillo. Detto questo qua però bisognerà fare dei movimenti. Io qua farei dei movimenti completamente a zero. Ovvero prenderei Di Maria a parametro zero che sarebbe il calciatore ideale per questa Juventus. Anche soffrendo e facendogli questo dannato contratto annuale. Quindi è vero che la Juventus non andrebbe a usufruire del decreto crescita. Però se poi ti vende a spendere 40 milioni per Berardi tanto vale prendere Di Maria a parametro zero. Che poi è Di Maria soprattutto. E quindi è un'altra situazione. Cioè siamo parlato di un giocatore completamente diverso. Poi farei salire Sule dalla primavera stabilmente. Dall'Under 23 in realtà stabilmente. Perché credo che Sule abbia bisogno di giocare in prima squadra. E potrebbe trovare spazio. Però non finisce qua perché io prenderei un altro calciatore. Sempre un altro parametro zero che si libererà e che farebbe al caso della Juventus. Sto parlando di Yanuzai. E voi direte Sic ma che ci fa la Juventus con Yanuzai? È molto semplice. Yanuzai ragazzi è un'ala destra. Che è buona. Non è una pippa. È abbastanza buona come... È un profilo buono. Però soprattutto Chiesa è rotto. Non sappiamo quando tornerà. Soprattutto non sappiamo quando tornerà in forma. Quindi Di Maria giocare a titolare a sinistra e Chiesa a destra. Ma finché Chiesa non c'è non puoi puntare solamente su Ake e su Sule. E quindi io andrei a prendere Yanuzai che metterebbe un tappo in quel ruolo lì. E che tutto sommato non sarebbe nemmeno poi così male. E quindi con Chiesa, Di Maria, Ake, Yanuzai, Sule e il bilancio a zero. Ce ne vogliamo sui centravanti. Per quanto riguarda gli attaccanti la Juventus aveva. Perché non ce l'ha più. Di Bala, Vlaovic, Morata, Kenne e Caglio Giorge. Qua ragazzi bisogna praticamente distruggere tutto ciò che c'è da distruggere. Di Bala va via parametro zero. Morata finisce il prestito. Io non lo riscatterei perché come vedete non c'ho una lira. E ho preferito rinforzare il centrocampo. Ken non lo riscatterei perché come vedete non c'ho una lira. E Caglio Giorge invece lo andrei a cedere in prestito a qualche squadra. Che magari gli darebbe un po' di minutaggio per farlo tornare un po' più pronto. Visto che l'ultimo anno non ha giocato mai. E non dico mai, intendo poco, intendo proprio mai. Avrà fatto due partite per puzza, forse. Detto questo ci abbiamo solo Vlaovic. Serve un vice Vlaovic. Io proverei a prendermi Simeone. Ora qua provo a fare una cosa abbastanza, diciamo, un arrampico sui specchi. Perché? Perché? Perché sì. Perché non c'ho una lira. E quindi provo a fare una cosa che però nella storia del calcio è stata fatta spesso. E quindi non sarei nemmeno così tanto estraniato. Proverei a prendermi il ciolo, il ciolito Simeone. Me lo proverei a prendere in prestito. Attenzione! Voi direte, ma perché te lo dovrebbero dare? Non è un prestito vero. Cioè andrei a prenderlo in prestito con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Che diventa obbligo alla prima presenza. Quindi basta che Simeone debutta. È un po' quello che era stato fatto al tempo con Mbappé. Mbappé fu preso in prestito con diritto che diventava obbligo alla prima presenza. E lo pagavano 180. Quindi capite che insomma avrebbe giocato e quindi Simeone giocherà, debutterà. Quando Simeone debutta la Juventus deve versare al Verona 15 milioni di euro. Eh sì, ma comunque i soldi escono sì, ma vengono messi a bilancio per il prossimo anno. In questo modo la Juventus avrebbe un attaccante che insomma ha secondo me anche ambizione di provare qualcosa di nuovo. Di provare una piazza grande perché in una big 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 non ha mai giocato. Giova nella Fiorentina ma quando non era nemmeno in lotta per i primi posti. E quindi insomma avrebbe voglia secondo me di provare una nuova piazza, una nuova dimensione. E sarebbe secondo me il perfetto sostituto di Dusan Vlaovic. E quindi con Vlaovic e Simeone andiamo a guardare la formazione che ho costruito per la Juventus 2022-2023. No, sì, 2022-2023. Scusate, me l'ho impicciato. Cesni in porta con Perin pronto a subentrare. C'è pronto a subentrare, beh se serve gioca. Centrali, De Ligt e Coulibaly. Capite che sta già prendendo un altro tipo di suono. Con Bonucci e Gatti in panchina. Quadrato a destra e Udoge a sinistra. A destra Danilo s'alterna con Quadrato. A sinistra Udoge s'alterna con Luca Pellegrini. A centrocampo Zaccaria in mediana. O Locatelli dipenderà appunto da quello che chiederà Mister Allegri. Con Pogba e Sergei Milinkovic e Savic come mezzali. McKennie e Rovella in panchina. Rovella vedrà il campo, sì, ma con il giusto quantitativo di possibilità. Perché tu in panchina hai sempre Locatelli e McKennie. E Locatelli può giocare anche Mezzala. Non è che deve giocare Mediano o Mezzala. Insomma, dove lo metti lui sta. McKennie sarebbe perfetto anche come sostituto di Sergei e di Pogba. Perché è un giocatore da inserimento. E quindi McKennie per la titolarità magari è bravo ma non è un campione. McKennie per la panchina è un ottimo calciatore. A destra Chiesa con Yanuzai che gli tiene caldo il posto finché non torna. A sinistra Di Maria con Sule o con Ache. So che qualcuno storcerà il naso. Allora ragazzi, quando Di Maria non ce la fa perché non ce la fa. Insomma, la Juventus può tranquillamente giocare con Yanuzai dall'altra parte. O con Sule o con Ache. Perché, cioè, valorizziamoli questi giovani. Oppure con Simeone adattato. Perché Simeone, ricordiamolo, nasce come alla barra seconda punta. Attaccante leggera non nasce come punta di peso. Poi è diventato punta di peso all'Ella Sverona. E infatti davanti questa Juventus sarebbe Vlaovic con Simeone in panchina. Io credo che questa squadra sarebbe capace di vincere lo Scudetto. Questa possibilità credo che ci sarebbe. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio, tantissimi mi piace. Buon shalala, ciao. Ciao.